Ci siamo perché mi sono arrivati tantissimi pacchi oggi, infatti la ragazza mi ha detto ma oggi è il tuo giorno fortunato, è vero così? Perché mi sono arrivati uno, due, questi tre li aprirò subito, due pacchi, poi qua ce ne stanno un altri tre, ma su questi farò il video di sabato perché questo e questo praticamente sono, volevo dire scusatemi, questi e questo sono dei lip gloss che volevo farvi un video a parte e quindi per questo e questo è un bracciale, aspetto che mi arrivi un'altra cosa per farvelo vedere, quindi nel video di oggi andremo ad aprire questo e questo che se non mi ricordo male, questi c'è scritto o di giù e li saranno dei piercing, andremo a vedere, comunque vi lascio tutto qua sotto all'info box dove li ho presi, ovvero da Aliexpress, ma vi lascio bene il link, eccetera eccetera eccetera, quanto l'ho pagati eccetera eccetera, ma iniziamo, devo dire che questa volta sono arrivati un po' di ritardo, ma vi dico anche il perché, perché praticamente io avevo pagato, la volta scorsa avevo pagato per farmi arrivare prima, questa volta no perché non me lo faceva fare, non so, comunque, oh mio dio, una scatola enorme per questi, cioè una scatola enorme, praticamente ho preso questi che sarebbero piercing per il septum, ovvero questi, si chiamano questi in realtà circular barbell, che c'erano le opzioni tipo tutti una misura, varie misure, ho preso varie misure, infatti qua potete dare ce n'è più grandi, più piccoli e questi li ho pagati mi sembra intorno a 2,80 euro, non di più e sono in tutto 10, mi sembra, 1, 2, 3, sì sono 10, perché questi praticamente io li amo da morire, li metto anche nelle orecchie, infatti non ne avevo, infatti poi li cambierò tutti e metterò tutti questi di varie dimensioni, e questi perché comunque non si sa mai, le palline sapete un po' dei piercing, sono un po' schifo, comunque l'affare mi piacciono, poi li proverò, e poi questa dovrebbe essere una cover per il mio cellulare, perché adesso non vi posso mostrare il mio cellulare visto che sto girando questo video, però il mio cellulare fa schifo perché si è tutto graffiato col tempo e quindi andremo a vederlo, non mi ricordo nemmeno io che cover fosse, qua quanto c'è scritto, che costata, non c'è scritto, comunque se non sbagliare intorno a 1 euro, 1 euro è qualcosa, massimo 2 euro, comunque vi lascerei i prezzi qua sotto l'info box, basta che andate, oh mio dio che è dura, sempre se sia la cover, poi non so perché qua non c'è scritto bene cosa sia, i pacchi cinesi li fanno proprio, sono una meraviglia, cose giuste, mamma mia, c'è, è la cover? Sì, è la cover, guardate che figa, vi faccio vedere solo di qua il retro, l'apriamo, appena l'ho visto e ho detto, deve essere mia, ed eccola, qua, guardate che figa, per chi se lo stesse chiedendo, io ho un Samsung Grand Neo e c'erano un bordello di cover, che puzza, però appena l'ho visto ho detto, deve essere mia, comunque fatemi sapere qua sotto se questi tipi di video vi piacciono, visto che ho intenzione di comprare molte altre cose da Aliexpress e mi devono arrivare altre cose, fatemelo sapere e in particolare se vi è piaciuto questo primo haul, di tutto se ci mettiamo manco a 5 euro ci arriviamo, comunque io sono molto felicissimo perché è arrivato quello che ho io, cioè che ho scelto io e poi tipo è buono, cioè bella dura, vedete non si piega tanto facilmente e questi li adoro anche perché servono sempre i piercing, e niente ci vediamo con il prossimo video però sabato dove vi mostrerò le tinte labbra e poi un'altra cosa che era il braccialetto sempre se mi arriva un'altra cosa sorpresa che non vi dico, che farò un cambiamento totale, e niente speriamo bene e ci vediamo al prossimo video, ciao, qua sotto vi lascio tutti i link delle cose che ho preso e vi lascio anche il link, oh mio dio mi stai papinando, il link dove potete trovarmi ovvero Instagram e Facebook, ciao!